Sfidano la meteorologia e l'erosione e confidano nella buona volontà degli uomini. Sono i balneatori di Pescara Sud che si preparano alla Pasqua ma che sono anche alle prese con il ripascimento e gli interventi anti-erosione disposti dalla regione per restituire un po' di spiaggia. Ci auguriamo che questi lavori cominciati largamente in anticipo rispetto all'anno scorso, quando erano stati iniziati a cavallo di giugno, quindi con la stagione balneare già iniziata, con gli ombrelloni installati, quest'anno hanno cominciato molto presto e quindi questo fa sperare che entro un paio di settimane sia tutto finito. Hanno fatto tutte le opere di ripascimento della sabbia, devono finire quelle delle scogliere ma contiamo che in un paio di settimane sgombereranno i cantieri permettendoci di fare le opere di attrezzamento della spiaggia, livellamento e installazione degli ombrelloni. Sicuramente sono opere importanti, sono opere importanti perché si fanno a Pescara Sud, che è sempre una parte di Pescara un po' periferica, anche se in realtà ha una densità abitativa molto molto alta. Quindi sono opere assolutamente dovute e che ci fanno sperare in una buona stagione. Questa recinzione mi spiegavate che è stata posta perché la sabbia appena messa deve decantare qualche giorno e poi naturalmente verrà rimossa all'inizio d'estate. Assolutamente, quindi qualche momento, solo una settimana in cui il tratto di riva non potrà essere calpestato, dopo questa settimana toglieremo tranquillamente, anzi toglieranno gli addetti che sono così solerti, anche il sabato di santo stanno lavorando quindi fa veramente be' sperare, toglieranno tutte le trenzenne e il mare tornerà alla portata di tutti. Oggi c'è una bella bassa marea che ci mostra una spiaggia almeno 10 metri più lunga di quella che è normalmente, quindi speriamo che non sia solo la bassa marea, vedremo i risultati penso tra un paio di settimane. Comunque più in là, diceva anche suo padre, anche gli scogli hanno già, si vede già qualche risultato nella zona di Francavilla dove sono stati ricaricati gli scogli a pennello. Sì, sì, Francavilla soffriva tantissimo dell'erosione delle spiagge e ancora di più di questa zona di Pescara. Hanno cominciato con la sistemazione dei pennelli negli scorsi anni, adesso quest'anno ne hanno installati penso due qui nella zona di confine e sì, in effetti gli effetti benefici sono immediati. È solo una questione ovviamente delle amministrazioni, regioni, di tutti gli enti che poi riguardano le spiagge, perché le spiagge sono De Manio, Dugana, amministrazione e regione, quindi è un'operazione complessa. Se questa operazione viene fatta, tra pennelli e ripascimenti, le spiagge sicuramente ne traggono beneficio. Grazie a tutti.